Salve amici, sono Kirenzo, con il solito pigiamino frociazzo. Oggi giochiamo Ranked su YouTube, non streamerò stasera, badate bene, perché attualmente starei lavorando al nuovo gioco che deve uscire domani. Sto video servirà principalmente a tre cose. Uno, farvi vedere quanto faccio schifo come al solito, ma ormai siete abituati. Due, per giocare Garen, perché, dato che ci sarà nel gioco, come è venuta voglia di giocarlo, di ricordare un po' le emozioni di Garen. È da un sacco che non gioco Garen, e comunque Garen è sempre stato un champion che ho amato, quindi lo giocherò. E inoltre sto video lo userò per spiegarvi un po' il gioco di che si tratta. E tra l'altro vi devo dare delle notizie per quanto riguarda Tumblecrash e cose che ci saranno sul canale, non su Twitch, sul canale YouTube, quindi tornei. E qui potrete partecipare, dopo vi spiego meglio. Lo giocherò con il Predator. Anche se con il Grasp dovrebbe essere non male, eh. Forse è meglio col Grasp che col Predator. Però non è che col Predator è più divertente. No, hanno quittato. Che falle. Vabbè, dato che mi fanno perdere tempo in Champions Select, non speriamo, eh. Allora, punto primo. Il gioco sarà pronto domani alle 8 di sera e invierò una mail a tutti i miei abbonati di Twitch, che siano Twitch Prime o eccetera. Io nenne. Con questa skin che mi piace un sacco. Sarà un gioco tipo Peacemaker, un po' più semplice, un po' più breve, ma come protagonisti avrà Lee, Garen e Lello. Sarà praticamente una specie di League of Maron. È divertente. Si potrebbe creare così il League of Maron anziché sotto forma di video. E infatti ogni mese creerò una nuova puntata da mandarvi. Casomai volete il gioco e non siete ancora abbonati, potete andare sul mio canale Twitch, il link sta qui in descrizione, e potete fare l'abbonamento, anche se non sto streamando. Da computer, non da cellulare. Avete tempo fino a domani sera, prima delle 8. Ogni mese, ogni 20 del mese, invierò un nuovo gioco, più i giochi precedenti. Quindi, se casomai ve lo perdete questo mese, il 20 di aprile potrete averlo, insieme a quello nuovo. Ultima cosa, e poi basta, sto zitto nel cesso. Per quanto riguarda Tumblecrash, per quelli che ci sono sul mio canale da qualche anno, sanno già cosa è Tumblecrash ed è tornato. Manco fosse un film horror. Tumblecrash è una piattaforma che ti permette di giocare con altre persone a League of Legends con un sistema di ranking a parte, nel senso. Voi vi registrate su Tumblecrash, link in descrizione. Potete cliccare lì sotto e vi registrate. Anzi, dovete cliccare lì sotto e registrarvi. Potrete sfidare degli avversari nelle 1v1 o partecipare a tornei 1v1, ma anche 5v5 con dei premi. E ogni volta che vincete una 1v1, otterrete dei punti, Tumblecrash coin. Con questi punti potrete ottenere dei premi fisici, come hardware, ad esempio potete prendere mouse, tastiere, oppure potete prendere, che ne so, le Steam cards, per dire. Quindi voi giocate 1v1 contro altra gente, guadagnate dei punti, scalate le ranked, che sono delle ranked 1v1, di LOL, eh, stiamo parlando, ma anche Hearthstone e altri giochi. E voi vincendo partite, scommettendo questi punti, guadagnate i punti appunto, punto, 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 e potrete prendere dei premi. Ma a prescindere dai premi è comunque una cosa simpatica, avere un sistema di ranking delle 1v1. Perché ci sta anche la... la leaderboard, cioè nel senso la... la tabella con i giocatori più forti del sito. Anche io sono sul Tumblecrash, e creerò dei tornei, oppure a volte in streaming, faremo delle 1v1 insieme. Cioè, prendo delle persone registrate su Tumblecrash e sfidiamo. Tra l'altro, ultima cosa, e poi ho finito con Tumblecrash. Ma come ce l'ha il Red Buff? Ha invaso comunque, eh? Sto stronzo, mi sa. Mi sa che ha invaso la giungla di Fiddlesticks. Eh, esatto. Si è eciulato il buff. Mi sta scopando, eh? Mi ha scopato. Attento. Ha visto che sta facendo il TP, perciò... Dimmi che questo TP ha salvato il mio compagno. Sion? Sta venendo Sion. Adesso inizia una rissa, qua, eh? Mi sa. Bella. Bella. Ottimo. Ottimo. Quello che doveva succedere è successo. No. In realtà no, non è vero. Oh! Ho dovuto pure flashare. Non è stato per niente, Ward, a questo punto. Dimmi che mi fai la Q sotto torre, ti prego. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, raga. Con la Q. Con la Q, ragazzi. Oh mio Dio, raga. Quanto sto tiltando. Con la Q si è schivato. Con la sua Q si è schivato la mia Q. Raga, quanto sto tiltando. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sono tiltandissimo. Ma tutto scarso. Vabbè, dicevo, raga. Domani su Tumblecrash ci sarà un torneo 1v1. Cioè, non è che domani ci sarà il torneo. Domani si apriranno le iscrizioni al torneo. E lo saprete soltanto se ci sarete registrati su Tumblecrash. Cioè, domani andate su Tumblecrash a controllare. Vi iscrivete al torneo. Sono posti limitati. Parteciperò anche io a questo torneo 1v1. E lo porterò sul canale. Non come il Maroney Torment che io casto. Nel senso, io gioco le partite e chi mi capita contro lo metterò su YouTube. Era meglio il Grasper qua. Andava un po' più tanky. Più tanky, più tranchy. Il Grasper è decisamente meglio. È diventato proprio stronzo. E sto morendo. Questa mi ulta. Ecco qua. Sono morto. È finita la mia vita. Tiè. Sai va un cazzo sto Predator, raga. È diventato forte, signore. È diventato proprio stronzo. Se avessi livello 6 farà la differenza. Attiva adesso il Predator. Vediamo se lo riesco a prendere. Ah. Vabbè, penso che lo prendo lo stesso, no? No. Ok, ha flashato. Forse pensava avessi livello 6. Non ha visto questo livello 5. Si è cagato sotto. Ulti, levi da qua. È impazzito. È impazzito, ok. Ottimo, non ha la ulti. Posso fare un Predator ulti, raga. Se il Mastery non c'è. Vado. Ce la faccio. Ce la faccio. No, cazzo. C'è il Mastery. Oddio, che succede là? Problemi? Cose brutte. C'è ancora il Mastery, eh. Io starei attenti a vedere il partito. Eh, ma così moriamo però, eh. Non vorrei dire. Eh, dai! No! È una TGT la ulti! Serio, è una TGT la ulti! Però l'ho colpito. Eh, ma ora come facciamo? Mica sta Mastery c'è la faccia. Uh! Uh! Stavolta però ti ho fregato. Stavolta la culo l'ho premuta subito. Ho aspettato la tua di cu. Bastardo! Mo' arrivo, bro. Mo' arrivo, bro. Resisti. Bro, lo dobbiamo pigliare. Guarda quanti HP c'ha sto bar... No, ma questo va a morire sotto torre. Questo va a morire sotto torre. Non c'è il Flash. Se ne vuole scappare? Fiddle, che stai a fa? Morgà! Ti stai facendo scappare una kill, Morgà! Stai dormendo veramente con la tizia in bocca. Morgana! Morgana, mamma mia, Morgana! Veramente, la tizia in bocca proprio, Fra. Fra, veramente, toglitela. Toglitela la tetta dalla bocca, per favore. È bella, è bella, per carità. Sono d'accordo. Sono d'accordo che la tizia è bella, però non puoi fare questo. Cioè, veramente, 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 Morgana! Toglitela, toglitela. La cosa che mi fa più tiltare è quando si fanno scappare le kill, perché essendo bronzo, per me le kill sono importanti. E qua? Fiddle ce la dobbiamo fare, now or never. La ultima non ce la dovrebbe avere, credo. E facciamoglielo un po' di danno, cazzo. Guarda quanto cazzo di culo ha. Eh no, devo fare, devo fare niente. La vita è una merda. La vita è una merda. Dovevi un'altra prima. Ma quanto è tank? Please. Ma da quanto cazzo sto tiltando? Ma perché? Perché ho sta cazzo di passiva tsunami? Tsunami ho la passiva. Tsunami! Tsunami! Guarda, guarda quella cazzo di zue, cazzo. Ah! Meno signora! Io mi capisco perché ho la passiva tsunami. Mo vado botta a mazzan... No, devo farmà. Sono la gente che dice che a minuto 20 non ho un minion. E mi prende per culo. Sto perdendo, eh. No! Eh dai, dovevo flashare. Dovevo flashare. Ho tryhardato, volevo schivare la sua ulti. Invece dovevo flashare e mi salvavo. Easy. So scarso, raga. Sono scarsissimo. Sono veramente una pippa. Veramente so scarso. Io in tutto ciò ho ancora la passiva tsunami. In tutto ciò. In tutto ciò ho ancora la passiva tsunami. Che volete da me? Sto difendendo la botta. Era pushata, l'ho difesa. Qual è il problema? Quindi mo morirai tu? Fammi capì. Ho passato a Mastery! Miracolo! Miracolo di San Giuseppe! Mio di San Giuseppe! Che schifo, vei. Madonna mia. Che schifo. Meno male che Silvio c'è, raga. No, vabbè. No, vabbè. Vabbè. Try to 1v1. Madonna mia, che BM. Oddio, tu chi cazzo sei? Ma tu chi cazzo sei? Ma come devi essere, bro? Se l'è fatta, se l'è fatta. Posso farma la wave. Io attivo sto bellissimo coto. Oddio. Ha flashato. Che cazzo sto a fare? Wow. Il best predator della vita. Mi sta caiando bene, eh. Bastard on. Ma lo ammazzerò prima o poi? Boom. Easy. Area di Baron tira. Sa che il Baron è stato fatto, ma... Ma è un Fint6 che si butta lì in ulti smita, tipo. Non lo sai? No. Guarda, è neanche ci credo. Ok. Però qua posso scarsi. È morto... Non c'ho visione, cazzo. Quanta vita a sto berdino. Oh mio Dio, ragazzi, è lo stillo. E dai, eh. Vado a Fint6. Se fossi venuto tu, piccolino mio. Se fossi venuto lì in ultimate. Era morto Mastery, lo smite. Quanto cazzo. Gare in Xplot. XT. Vai, costruire sto predito. Va. Vediamo un po' la potenza. Eh, 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 eh. Ah, ma sono in mezzo i nemici. Mi dobbiamo andarcene. Fiddle, fiddle. Ok. Eh, ma morirò. Ma che cazzo stanno a fare i miei compagni? Ah, godo. Godo like this. Quella. Quella. Guarda là, guarda là che stronza. Guarda là che troietta. Che troietta. Vediamo se col predito riesco a fare qualcosa. Vado, vado di predazione. Yes. Danni puri, signore e signori. Ci siamo? Qualcuno mi dà una manina? Baronessia! Sono morto. Fiddle è andato. Attenzione. Partito. Vail, che schifo. Che schifo. Oh mio Dio, quanto culo hai? Quanto culo hai? Scusami. Ok, non è vero. Mamma mia, che schifo. Guarda là, guarda. Tic, tic. Poc. Che schifo. Eh, hai cacato. Hai cacato fuori la tazzina. Grande intervento di Zoe, signori. Mio Dio. Mio Dio, signori. Quante cose sto assistendo. Siamo morti tutti. E io sono lontano, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Stai fiuso, vai, prega. E invece non l'abbiamo ancora perso. Non è detta ancora l'ultima parola, signori. Direi che sei ancora vivo. Perché? Avevo la passiva su Sion pronta. Adesso invece ce l'ho su questo cazzo di stronzo di Sion. Mio Dio. Quanto cazzo è morto. Non muore. Oh, shit. Zoe. E vuoi morire. Oh, non muore. Te ne andiamo. Mo' te ne andiamo. Oh, shit. Mi sono fatta su. Oh, mio Dio, ragazzi. Che sta su. Wow, Zoe. Zoe, hai redemption. Usalo. Zoe, hai redemption. E io, come al solito, 30 minuti. 135 farm. Quindi, alla fine, mi flammerete lo stesso per il farm. Ma, raga, ma voi non potete giudicare? In base al farm. Perché questo elo è diverso. Qui l'elo è l'elo delle kill. E negli LCS, nei Game of the Diamond, non ci sono così tante morti. Quindi è l'unico che voi dite il farm, il farm, il farm. Lì il farm conta di più perché le kill non ci sono. Qua ci sono molte più kill. Quindi il farm perde è importante. Certo, è importante. Però è diverso il farm in questo mondo. È tutta altra cosa. Che coglione senso... Cosa? Eh? Nani? Uh, quella cumorgana. Ok. Ha fatto flash il bastardo, eh? L'ha preso. Oh, oh, oh. È Fidel l'ha svegliato. Ehi, ciao, bella. Dove è una bella... Nooo. Quella cura di troppo l'ha curata. Cura. Ciao Sion. O te addormenterai. E nei peperoni ripperai. Che sta succedendo qua a Zoe? Che cazzo hai missato, bro? C'è che morì. Oh, 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 oh. Oddio. Mi adesso strontola. Mi sono caccato sotto. Io per te sto qua incastato in un angolino. E' Vain che mi protegge, papino. Grazie, papino. Chi da l'è andato dentro? Ma ci sono anche io, baby. Ehi. E tu che fai qua dentro? Ah, ma c'è Mastery lì dietro. È morto Mastery. Vain pure. Ah, Vain è dentro la base ad ucciderli. Che crudeltà. Che crudeltà sta, Vain. Eeeh. Cattiveria. Vain, vieni. Vain. Ehi. Piccola. Voi c'è di fare la spavaldina in chat. Perché non vieni qua? La fate a rompere sta cosa? No. No. Zoe è morta da sola. Vain si mette a fare uno più. Vain l'ha fatta tiltare quel tizio. L'ha fatta tiltare. Se Vain non l'ha fatta tiltare dicendo uno più uno più. Ora fa la cogliona. Ok, sei forte, Vain. Brava. Eeeh. Maestro però. Non scherza, maestro, eh. Vabbè, i danni puri te li prendi nel culo. In ogni caso. Vain è andata. Nella bolla. Vain è andata. Nel veleno. Boom. Wow. Signori. Che team del cazzo che abbiamo. E io che sto facendo esattamente? Niente, sto prendendo i cazzi. Qualcuno mi aiuta? Grazie per lì. Eeeh. Abbiamo vinto. Oh mio Dio. La ulti di Karen è buonissima. La ulti di tank. Un bellissimo head stop. Ci sta, no? Un bellissimo head stop. Ci sta per chiudere in bellezza, no? Oppure no. Carriato, devo dire la verità. Sto game mi sa molto di carriato. Però mi dispiace. No, non mi dispiace per niente. Honor a Venno che io lo do perché è brutta. Guarda tanto è brutta. No, che schifo. Chi va da Zoe che era molto più simpatica. Ah, e tra l'altro questo video era un sepperdo scendo. Niente. Grazie per aver visto la Ranked. Ricordatevi, il link in descrizione c'è sia il link a Tumblr. Cresce registratevi. Che domani esce il torneo. E abbonatevi su Twitch. Se domani alle 8 di sera volete le mail col gioco. Che cazzo è qua? Il rework di Relia? C'è bellezza nella tradizione e nella danza. Grazie. In ogni passo. Non l'avevo visto. Potenza. In ogni movimento. Bellissimo. Belle con le lame. Oh mio Dio, raga. È tipo Windwall di Yasuo. Bellissima. Oh mio Dio, quanto. Cioè... È spettacolare da vedere, intendo. Guarda quanto soffigli fluidi i movimenti. Ma che è Catarina. È Catarina D. Di quelle... Sembra bella. La banerò. Praticamente Irelia è diventata un champion per bimbi minchia. Per intenderci. È diventata uno Yasuo mixato a Catarina. Quindi, ok, raga. Avete capito, no? Quindi... Ah, e vai! Finalmente. Finalmente. Ci serviva. Ci serviva un altro cazzo assassino di Ionia. Che diventasse cancer. Chiudo il video con la lacrima che mi sta per scendere dagli occhi. Guarda, però, però. Pronto ad affrontare un altro cancro.